Ciao a tutti ragazzi qui è Fortecomer che parla e benvenuti in un nuovo video Avete letto bene dal titolo ragazzi, si è stato lickato il trailer ufficiale di Fortnite capitolo 3 Lo sono riuscito a trovare su YouTube e voglio fare una velocissima reaction assieme Ma prima vi ricordo che attualmente siamo live sul mio canale Twitch per guardare l'evento finale di Fortnite Quindi mi raccomando ragazzi andate in descrizione e venite a seguirci Io ragazzi non so assolutamente nulla del trailer e lo sto vedendo per la prima volta assieme a voi Quindi regoliamo gli audio E pronti? 3, 2, 1, andiamo Ok, vediamo un bioma di neve e un bioma di acqua Ok Ma poi tra l'altro che è? Russo, Polacco? Bielorusso che lingua è? Ma poi cos'è sta cosa? Cos'è? Uh figo Gli alberi si rompono l'uno con l'altro? Ok, ho capito Battle Royale Cosa? Gli Spider-Man chi? Oddio, adesso fuori Ma no, che figata La scivolata Ragazzi Stava swingando sto tizio Aspettate una Cioè questo tizio stava utilizzando le regnatole di Spider-Man Cos'è? Non ho capito cosa fanno queste tende Ok Non l'ho ben capito queste tende Sono da capire Ok Queste c'erano già Che corona è? Non capisco Questa forse è una nuova modalità Perché è stato eliminato il tizio con la corona Ed è tipo morto il team Questo è da capire Ok Queste sono le nuove zone Ok Che figata È il Daily Bugle Ottimo È il Daily Bugle Ragazzi Aspettate Che figata L'hanno rifatto Non ci credo Quindi c'è proprio una zona per Spider-Man È il segreto Ragazzi Wow È tornato No Hanno messo proprio la roba ambientale Cavolo Dai Si prospetta bene Che figa la skin Dai ragazzi Si prospetta veramente bene Ok Vediamo tutte le skin Vabbè le più figo ovviamente sono quella di Spider-Man Anche tipo Questa tizia non è male Sono carine però Mamma mia ragazzi No Vabbè che roba Che roba Veramente stiamo scherzando Mamma mia ragazzi Non vedo l'ora che esca questa season O meglio questo capitolo Che roba veramente fighissima La roba degli Spider-Man Che ti puoi swingare Tra le strutture Che puoi utilizzare la skin di Spider-Man E soprattutto che puoi fare le scivolate cose È figo che abbiano aggiunto questi movement Perché secondo me ci volevano E poi sarà molto più interessante Vedere anche come ovviamente I pro player Tutta la community Evolverà in funzione di queste cose Che figata Oh ragazzi Io vi ricordo ancora Che attualmente Oggi siamo live sul mio canale Twitch Per guardare assieme l'evento finale Venite a seguirci E noi ci becchiamo domani Per i prossimi video Finalmente su Fortnite Capitolo 3